Musica Ragazzi, ragazzi, eccoci qua su Horizon Forbidden West Proseguiamo da... oddio non mi ricordo il nome del posto che è Lanciardente l'episodio scorso dopo aver fatto una missione secondaria mi sono dedicato un po' insomma a girovagare praticamente per la mappa abbiamo visto anche il terreno di caccia abbiamo completato se non sbaglio no, sì forse una ma non l'abbiamo preso l'oro insomma eccetera vedremo più avanti o comunque vedrò io insomma vediamo perché non mi dispiacerebbe non riuscire a prendere l'oro magari aspetto ancora un po' finora abbiamo completato praticamente un solo terreno di caccia poi abbiamo visto mi pare un punto panoramico ci siamo dedicati ai combattimenti che abbiamo completato ora ci manca quello del bastione e un altro che però forse non abbiamo ancora scoperto ma vabbè li faremo ora io ho già attivato questa missione sangue per sangue che ce l'aveva data Dekka non sbaglio Dekka vuole trovare suo nipote cavo fuggito per unirsi alla ribellione di Regalla e convincerlo a tornare a casa quindi direi facciamoci sta missione il falò che non trovo mai il primo po' ah era qua esatto ecco ok quindi andiamo in questa zona qua invece c'è anche un accampamento di ribelli che poi piano piano ci spostiamo verso sud così ci avviciniamo alla missione principale di Poseidone praticamente ok era di qua dov'è se lì in alto sul crinale sì sì ecco Alloy l'avamposto è poco più avanti sei pronta? i ribelli non si arrenderanno senza combattere e allora ci toccherà affrontarli il massacro finirà quando sarà sconfitta a Regalla cerchiamo la prigioniera Nakalla forse sa dove è andata la squadra di Cabo bene entriamo ah quindi forse l'accampamento di ribelli eh sì è legato ok a questa missione vabbè cd ribelli allora allora io se possibile non mi dispiacerebbe attuare la solita strategia del cecchinaggio però vediamo c'è uno sul da macchina un altro avamposto ribelle mi avevano avvertita devo eliminare il loro capo ok aspetta poi siamo un po' troppo vicini però ok d'intanto c'è qualcuno che non capisco se ha la testa si mi sa che ha la testa scoperta però io gli ho preso l'armatura aspetta tu non attaccare ho preso l'armatura vediamo se le passa un po' ah vengono qua ah potevo mettere giù una trappola avevo ancora le bombe fumogene ok che stai parlando io non vedo niente eh infatti infatti saperlo ne avevano tre si metteva una bella bomba cercatemi pure facevo fuori il tre in un colpo solo allora proviamo a prendere lui ok ah mi ha visto allarme nessuno ricorderà l'ho preso io continuo dov'è? ecco qua lo sto facendo scusi eh non per dire abbiamo quella sulla macchina ok è andata ah si aspetta quelli che si erano allarmati sono stati sconfitti ok aspetta cosa sasso figli di prometeo qui aspetta c'è nessuno lì in alto non mi pare di veder nessuno ah però guarda c'è aspetta c'è un appiglio lì in alto ok qui qui non c'è nessuno no io sto andando abbastanza tranquillo ma ok aspetta non ci arrivo ma qua si qua no ottima posizione per cecchinare vieni Eloy ma torniamo alle nostre cose ma scusi che blocca ha bloccato che fosse il premio finale un po' di roba tu stai giù stai giù eh si non ti ha una posizione per fare il cecchino però ah che il capo è lì il capo è lì cosa fa ah no che non è lei lei è giù riposerò qui fino al tuo ritorno cioè conta la zona come se fossi uscito ah no cioè la mission vabbè insomma avete capito attenzione oh l'ho preso ole quello là ora ha la maschera ma ti aspetto qui l'ho preso bene dove l'ho preso ecco è morto no qui non c'è nessuno forse manca solo il capo vabbè andiamo giù qua qua c'è qualcosa no ok anche qua un po' di roba sono qui eh beh qua c'è un altro baule va che ok a lei no qui ecco prendo in testa vediamo magari oh l'ho preso non ho capito da dove ok attenzione maia carica non vedo la testa no oh dove l'ho preso non ce ne sono più i ricognitori hanno visto una calla legata a un padre guardiamo in giro aspetta aspetta saccheggia il capo ok ma lassù adesso è sbloccato forse vediamo se è sbloccato quello scrigno ah però ah no se no aspetta aspetta le due missioni sono unite saccheggiamo prima lui dai che è qua ok ah vedi si perché avrà la chiave scopri come usare la chiave là in alto il il baule qua c'è qualche appiglio no qua ci sono delle scorte un po' di roba ok aspetta ma hanno roba rara qui aspetta qui non c'è ah si no non l'ha non m'ha preso aspetta aspetta qua piastrine piastrine di soldati morti ok dovrai portarle a Ducca ti aspetto qui scendo piano là impronte che si allontanano dal palo in quale direzione della corda abbastanza da legarci qualcuno un sassi e ok sangue dei ribelli o di Nakalla ok casse apri portello la mia manna Kalla piano ora dove sono cappellana sei tu con una straniera ah scusa wow come sei finita lì sotto i ribelli mi hanno legata speravano che con un po' di sole avrei svelato i movimenti delle nostre squadre mi sono liberata e ho provato a fuggire l'ho pagata cara ricordo solo una botta in testa e il sapore della terra e voi perché siete qui cerchiamo cavo hanno visto la sua squadra uscire da questo avamposto sì era qui ci hanno attaccato loro lungo la strada i miei sono fuggiti ma io no invece è stato cavo a legarmi al palo se anche lo trovassi cappellana non lo convinceresti la sua lealtà è chiara sai dov'è la sua squadra gli ho sentiti nominare riva rapida allora cercheremo ancora da lì io vado ci vediamo a riva rapida a sud ovest Dekka se cavo ha attaccato la sua squadra no non è tutto perduto troviamolo e convinciamolo a cambiare strada bene ci vediamo lì tu che farai quella ferita va curata guarirà devo solo riposare poi tornerò al bosco ascolta testa rossa la cappellana non lo accetta ma suo nipote è un traditore beh lo scopriremo va bene altro che mi devi dire no non preoccuparti ritornerò al bosco va bene dov'è riva rapida ah qui si vabbè andiamoci anche se è un po' un po' si è in un'altra zona qua c'è scatola nera traccia pioggia eh ma andiamoci magari aspetta prima esco di qua ah ah altre scuole questo accampamento è fornito tantissimo ma qui non è consigliabile se appena posso prendo magari la macchina poi a mezzo ai monti però no eh si seguiamo sta missione poi ho preso l'alba è vero va bene qua zona di inseguitori nella giungla praticamente ma a vedere aspetta ok forse qua ok meno male ce l'ho monta eh si qua c'è una strada ma va che ci sono le mine attenzione ma che c'è eccolo e gli assassini invisibili preferiti andiamo fin dove arriviamo eh perché non 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 va non va non va non eh non va nessun dislivelli un pochettino non so ma andiamo di qua ok è pieno ma va che c'è un altro fiore qua c'è un rifugio sconosciuto rifugio ma c'è qualcuno no cassa di scorte eh ok mi rifornisco salvataggio magari più rapido ok e allora qua mi lancio ok oppa intanto un altro dislivello e purtroppo tutto così eh vabbè questo preferisco far a piedi più delle volte e sali scendi sali scendi sulla macchina ecco riva rapida Dekka mi starà aspettando là dentro ok e lì qua c'è anche una missione ma no facciamo la nostra prima riva rapida eh quante voci signori calma aspetta sì sì noi ci parleremo poi volevo vedere qua se ha oh vedi ha qualcosa di molto raro arco da caccia inesorabile lancia frecce di ghiaccio e frecce quelle avanzate danni d'atterramento lancia trappole scavatore eeeh scusa munizioni esplosive e quelle là cosa sono una rete esplosiva sembra sì sembra di sì però abiti vediamo ehi là dragone tenakt arciera su macchina più 2 riparatrice salute delle ma questo punta più sì sulle macchine vabbè ok qui assaltatore oseram espressione risonante durata carica a con risonatore più colpo più colpo critico facciamo confronta il nostro a livello 2 praticamente eeeh colpo critico il nostro ha più roba carica vadorosa migliorata insomma ma eeeh beh però cioè a parte col ghiaccio eeeh il resto ha 22 di fulmine che non abbiamo però meno 27 d'acqua invece noi abbiamo 40 abbiamo 34 di là di acido eeeh noi meno 17 eeeh meno 25 al plasma lì meno 20 il nostro eeeh è che il nostro c'ha la protezione della distanza a 33 ma è potenziato quello 18 22 beh oddio non è malaccio insomma anche esteticamente per cambiare un po' eeeh però eeeh comunque adesso non posso prenderlo volendo ah sì perché a me comunque ogni tot mi piace cambiare certo il nostro è più è vigore armi più cioè un po' più indicato però l'altro assaltatore Osram diciamo che potenzia un po' il corpo a corpo ecco il corpo critico più che ora abbiamo disponibile ma perché l'ho potenziato eeeh di là va sbloccato praticamente in più ci dà un bonus colpo silenzioso il nostro vabbè io ma quasi quasi beh per prenderlo potrei anche prenderlo tanto abbiamo cose in abbondanza quindi va bene dai lo prendo eeeh acquista ok vendo vendo eeeh strumenti risorse qua recuperiamo praticamente sì che poi dice mi pare che però questo il test dice utile per vendi preferenti di metallo ma in realtà mi pare che serve anche per volendo creare pozioni se non erro magari ho visto male comunque recuperiamo praticamente quello che abbiamo speso acquista tu non hai né bobine né niente no no ok vabbè armi ok fa vedere se per caso posso potenziarlo secondo me di un livello sì infatti fa vedere ecco qui già qui già no coprisacca di celer morso però non è difficile da trovare anzi pur cartiglio minerario spezza roccia danno risonatore eh livello 4 in ogni caso non potremo perché il colosso non l'abbiamo ancora incontrato me non mi pare forse sì ma non non la zona dove di solito gira sì va bene no sto guardando ma beh comunque farvi vedere conviene magari potenziarlo sicuramente a livello 2 che ci dà il colpo critico più e forse magari a livello 4 no dai livello 3 però livello 2 sicuramente e vabbè potrei anche potenziarlo adesso francamente tanto se dai quasi quasi lo cambio ok così mi ha aumentato tutte le resistenze eccetera e aspetta potenziamento arma ho per caso qualcosa questo l'avevo potenziato di un livello ah sì non mi ricordavo neanche più vabbè e no comunque no potenziamento arma niente sa che sono le uniche due che non mi interessano e va bene aspetta è imbottito non mi dispiace è imbottito bello tondo dai sì mettiamo questo usa e la bobina possiamo metterne solo una eh visto che espressione di isolante più 2 quasi quasi sì dai metto questa qui siamo più potenti è già in uso ma che se ne frega la metto e va bene l'ho tolta di là immagino no ah era già in uso da qualche altra parte vabbè ok va bene ecco abbiamo cambiato abito questa umidità vabbè e dicevo dov'è dov'è lei scusami prossimo obiettivo aumentare l'agittata del cuo ma spinta niente male ecco in basso ah sì sto dicendo la verità devi ascoltarlo a rocche non se ne parla è un traditore decca che succede a noi felice di vederti questo è a rocche capo di riva rapida hai reclutato la campionessa del capo per la tua futile missione tu devi essere cavo mio nipote è un soldato che desidera rimediare i propri errori oppure attirarci in una trappola l'hanno trovato che si aggirava intorno al villaggio non mi stavo aggirando ero qui per avvertirvi i ribelli vogliono attaccare e manderanno una macchina a distruggere il villaggio sono corso qui appena ho capito cosa volevano fare voi dovete credermi dove sono i ribelli sono andati a cacciare la macchina a nord posso mostrarti dove l'unica cosa che farai sarà affrontare il duello hai tradito il clan il capo il tuo destino sarà deciso da sangue armi io duellerò con chi vuoi ma dopo aver fermato l'attacco ma perché questo villaggio pensavo che regalla puntasse ai carro era un palustre prima di diventare capo a differenza degli altri due clan noi lo sosteniamo senza esitare riva rapida e in una posizione strategica tra il bosco e la capitale è vero gli ordini erano di separare carro dal clan delle paludi pensavo volessero interrompere i rifornimenti non massacrare un villaggio hai disertato dopo aver scoperto i loro piani d'attacco perché hai cambiato idea mi sono unito ai ribelli pensando che regalla ci avrebbe guidati contro i nostri antichi nemici i karja ma ci siamo solo uccisi a vicenda e per cosa orgoglio vendetta così quando il caposquadra mi ha parlato dell'attacco a questo villaggio me ne sono andato sono tutte menzogne quelli che hanno disertato per unirsi a regalla sapevano bene a cosa andavano incontro no non tutti se cavo dice la verità il villaggio è in serio pericolo dobbiamo trovare i ribelli e fermarli i ribelli hanno acceso un falò a nord del fiume vicino alle rupi posso mostrarvi come arrivarci bene liberalo a rocke no non gli permetterò di fuggire il traditore non se ne andrà fino al momento del suo duello allora sia sangue per sangue renderò il posto di cavo fino a quando lui non farà ritorno commetti un errore cappellana il clan ha bisogno della tua guida non delle bugie di un braccianude conosci le leggi cavo andrà con aloi andrò anch'io se il ragazzo dice il vero servirà la mia lama se invece mente lo ammazzerò adesso devo organizzarmi poi ti raggiungo con il ragazzo bene ci vediamo lì ok raggiungi il falò magari si era avveduto davvero qui hop hop fallò dove? qua si esteticamente parlando per ora diciamo gli abiti date and act si beh per quanto sono figli però non mi piacciono i tatuaggi i disegni più avanti c'è qualcuno ma né cavo né a rocke che ribelli amici di cavo sconfiggiamo andiamo magari questo questo possiamo liquidare lui aspetta ecco quello là eccolo la maschera vabbè ora l'abbiamo rotta almeno no l'abbiamo rotta porca vacca aspetta vengono qui eh vengono qui ecco uno è morto ecco la minaccia e l'altra metà vita cioè l'altro metà vita li abbiamo tolto adesso però siamo un po' più forti madonna il combattimento corpo a corpo se riusciamo a prenderlo no devo sfondagli eh mi insegui ma che è oh aspetta e sta per cedere è andato un attimo eh c'è qualcosa fatti ok meglio fare farmi caricare un attimo frammenti eh sì con l'altro avevamo un po' più di vigore si nota un pochino la difenza però vabbè dai posso cambiare posso posso vorrei aspettarlo qui ma non appare nessuni ah ok ecco venendo qui ho trovato dei tuoi amici cavo iniziamo col piede sbagliato dovevano essere di pattuglia giuro sui dieci che io non ne sapevo niente che ti dicevo le sue falsità sono una ferita aperta meglio cauterizzarla prima che si infetti no sto dicendo la verità slegalo come vuoi ma questo è un grosso sbaglio però c'è la seconda senza problemi e la mia arma se tu credi che dagliela e basta a rocche dobbiamo muoverci fa strada va beh tanto c'è da questa parte si c'è una trappola ammazziamo tutti via dove ci stai portando i ribelli sono appostati alle scogliere qui vicino ho seguito questo sentiero quando li ho lasciati gli altri non si aspettano che qualcuno arrivi da questa parte oppure se l'aspettano e ci uccideranno all'istante ecco le cascate e non c'è nessuno come sospettavo su andiamo avanti non mi piace ah no ah su si ah ma ah no forse non ci arrivavamo vabbè andiamo di qua dove sono tutti niente ribelli né macchine che cosa laggiù alle cascate oh colosso contro quella cosa riva rapida non avrà alcuna speranza di salvarsi allora li fermeremo subito ti seguiamo aloi aspetta e vedi il colosso si parte per riva rapida il colosso l'avevamo già incontrato però non ho nessuna sulla mappa nessuna zona dove pascolano diciamo e vediamo se trovo la parte che è il pezzo che serve con lui allora aspetta prima di tutto guarda lui mi sembra ecco un bersaglio no no stava per suonare il cordo vabbè è forte contro il ghiaccio è più forte contro il fumi qua però erano tutti da maschera anche quello non riesco a capire va a vedere si si anche quello anche quello aspetta cioè l'unico senza è quello che ho ammazzato ah no guarda anche lì ecco ok è debole contro a fuoco è molto debole contro l'acido vabbè io come sempre provo il gelo vediamo se noi siamo più forti col gelo io volevo prendere questo ma si è spostato vabbè c'è qualcuno ah quello che ho ucciso si ok aveva la pozione ah ma che forse questo allora magari uccidere almeno lui però però aspetta guardaci lì pampa ops pensavo che scoppiava basta nascondersi ah no è acido acido vabbè e niente aspetta il colosso ok allora andiamo lì ma che fate le alternate no 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 eeeh porca va che mi ha preso il colosso volevo eliminare prima gli umani vabbè rifacciamo ok aspetta macchine che cosa laggiù alle cascate sangue dei dieci contro quella cosa riva rapida non avrà alcuna speranza di salvarsi ecco lì allora li fermeremo subito ti seguiamo aloi aspetta niente nessuno potrà fermarsi tutti pronti si parte per riva rapida ah quello è andato allora facciamo così visto che sappiamo dove quello si ferma no teoria almeno ok ok almeno ne ho eliminato un in più a sto giro però quelli non ci posso fare nulla la maschera se mi avvicino non mi vedono proviamo proviamo a fare così ah l'ho preso dove non c'era ottimo quindi è possibile ok allora qua forse ah lì sotto il collo eh però figa sta cosa che comunque cioè ci sono degli spiragli ok eh bene 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 aspetta lui ok lui si muove eh bene è difficile finiamola qui senza munizioni via per favore facciamo ciao ok poi dammi qua chi? i tuoi compagni? aspetta dov'è? ti aspetteremo ma che ti aspetteremo? ah lì guarda lì oh vai l'ho tolta porca vacca per la battaglia non vale una goccia d'inchiostra porca vacca orca vacca se sto spogliando ecco ok allora adesso allora guarda aspetta aspetta no dove è andato ma è confuso un simbolo ah boh posto ah per tipo la bomba fumogena allora si fammi vedere qui da ma fa vedere bene eh no vedi anche se è forte ma noi siamo più forti forti ok congelato è volato ok attenzione no a vigore esaurito ok metallo contro metallo parca ok dai dai un bel po' attenzione un bel po' li abbiamo tolto dietro l'albero per favore dietro l'albero qua ok ok dunque adesso ui madonna vai ok ok gli ho dato macchina arrosto ok adesso risparmiamo un attimo munizioni in arrivo magari li stiamo togliendo anche con le frecce basiche zoppica zoppica a vigore esaurito a vigore esaurito metallo contro metallo spazza no non ho ok 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 vorremmo dargli un po' di grazia beh l'ho mancato porca queste tolgono di più ok è fatta vai facciamole ok ok altro un giro qualcosa chiamaci la vita ok ecco qua c'è roba ok un bel po' di roba ha perso ah la vampa si si prendiamola munizioni qua qua c'è roba basta basta ok che stanno facendo mh cavo sanguine passerà l'importante è aver fermato l'attacco grazie al tuo avviso hai salvato molte vite forza torniamo a riva rapida ho anche qualche costola rotta va pure lo porto io al villaggio va bene racconterò tutto a becca porti in braccio porti so vabbè facciamo così ok vediamo riusciamo a usarla senza andare a sbattere si più o meno eh po' 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 giù ci mancherebbe a sbattere Arocchie... Si pente di non avergli creduto. Cappellana, tuo nipote è stato onesto e coraggioso. È un palustre leale. Quindi sarà liberato? Se l'è guadagnato. Ma dovrà darsi da fare per recuperare la fiducia del clan. Farò tutto il possibile. Grazie a noi. Davvero. Riva rapida ti deve molto. Questa è una prima ricompensa. Grazie. Quando sarai guarito, avrò molte cose da mostrarti. Bentornato, capo. Ok, missione secondaria completata. Ho 5 punti abilità. Va bene. Andiamo. Dove... Io stavo spendendo... Qui forse, in superstite. Rallottini e rallottini, poi mi sti colpiscono. Qua potenziamo le bombe. Quanto lacerante. Scopri attualmente salute quando questo è a livello critico. Ah beh, quindi questa. Ok, possiamo prenderlo. Attacchi mischi infliggono più danni quando la salute è a livello critico. Beh, ma... Sì, ok, è utile, però... Quando sono a salute bassa scappano. Cioè... Gli attacchi a distanza infliggono più danni quando la salute è a livello critico. Questo è già un po' meglio. Eh, però... Quegli... Ah, ottieni più risorse dalle piante. Attenzione. Questa non è male. Capienza medicine. Ok. Difesa con salute bassa. Va bene. Eh... Ah, bomba adesiva. Ok. Quanto lacerante è potenziato. Influge danni extra. Vabbè. No, è utile... Eh, però non riesco a prenderla. Devo sbloccarne almeno uno. Allora, prendiamo questo. Danni a distanza con salute bassa. E questo due. Ok. Ci manca un punto abilità. No, scusa per... Si va a prendere questo. Che poi possiamo prendere questo. Ok. Va bene. Guarda. E qua però c'è una missione. Io... Cavi scudo. Possono essere sparati da alcuni lanciatrappole. Ah, forse ci hanno dato... Un'arma, non me ne sono accorto. Come al solito, adesso guardo. Eh... Sì, cavi scudo. Possono essere sparati da alcuni lanciatrappole. Per generare uno scudo energetico tra due punti. Lo scudo blocca proietti ed esplosioni di qualsiasi tipo. Ma non può nulla contro gli attacchi fisici. Se serve troppo i danni, da te... Ho detto ai nemici, lo scudo esplode. Sono tutta sudata. Colpa del caldo. È caldo umido questo. E... Qua allora, aspetta. Questa. Lanciatrappole da perimetro. Ah sì, quello lì io pensavo fosse un... Insomma... Una trappola ragnatela, ma... In realtà è uno scudo. Che poi però scoppia. Quando non ha più vita. Vabbè. E quindi quella che... Vabbè, quella che potevo comprare aveva i cavi esplosivi. Questa c'era fulminanti. E... Infocati. Però... Vabbè. Ok. Ah, io tra l'altro... Ho anche lo sparatadi che non mi viene da francamente usarlo. Cioè preferisco stare... Sul... Sul classico. Come dica a me. Vabbè. Qui c'è una missione. Io... La vorrei prendere. Dov'è che si sale qui? Aspetta. Ah, qua c'è Batosta. Il tabellone. Il tabellone. Ah, qua. È un vero onore. Io sono Nacco. Per caso sei già stata nella Valle dei Caduti? No, non mi sembra. Perché? Cosa c'è? Mio fratello minore. La Valle è una prova di resistenza e abilità per il mio clan. I palustri. Ma ormai è chiusa da mesi. Ordini dall'alto. Hanno segnalato delle strane luci al largo della costa. E l'area è infestata da macchine letali. Ma Dax, quel braccia nude, ci è voluto andare lo stesso. Fa di testa sua. E ha convinto altri due a seguirlo. Sono dispersi da giorni e ora il maresciallo Ivira è andato a cercarli. Strane luci, macchine letali e soldati scomparsi. È troppo anche per un maresciallo. Ci andrei io stesso. Ma purtroppo ho altri ore. Eh, sì. Andrò a cercare tuo fratello. Dov'è la Valle? Più a sud. Verso la costa. Cerca la via d'arrampicata sulle rupi. Segna l'inizio della Valle. E se vedi mio fratello, dagli una pedata da parte mia. Eh sì, lui... impegnato. Eh. Aspetta, dov'è sta missione? Scavazzannaci di qui? Ah, è qui. È qui. Non è molto lontano, eh. Eh, io però non volevo troppo andare oltre qua. Vabbè che... Ah, qua c'è un calderone, tra l'altro. Eh... Volevo un attimo stare qui. Deserto. Però... Non so. Già che siamo qui... Magari qua c'è un rifugio. Un posto ribelli. Qua, però... Questo che abbiamo preso adesso... Tanto di che livello è? No. Eh... Aspetta. Questo... No. No. Sì, che dici? Sì. No, il mare di sabbia, ok. Ehm... Qua. Ah, 28. Vabbè, comunque sono tutte, anzi... Sono alcune sotto il nostro livello, ma... Quello 28. Vabbè. Niente. Sì, dai, magari... Eh, qui, dai, facciamo questo e poi... Torniamo da dove siamo venuti e se no... Va bene, va bene.